ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco vaso star a cosa serve vaso star a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi non compresi nelle classi precedenti altri è commercializzato in italia dall'azienda star dea srl informazioni commerciali titolare star dea srl concessionario star dea srl categoria di appartenenza dispositivi non compresi nelle classi precedenti altri forma farmaceutica crema confezioni vaso star crema proctologica 30 g indicazioni il prodotto è utile nel trattamento dei disconfort anali e favorisce la risoluzione di sensazioni fastidiose quali prurito bruciore e dolore che caratterizzano il quadro sintomatico della sindrome varicosa emorroidaria formulazione specifica ad azione protettiva e lenitiva che grazie alle sue proprietà filmogene crea una barriera a sostegno di una rapida regressione della sintomatologia associata ai processi infiammatori contribuendo a tenere sotto controllo il micro ambiente della ferita modalità d'uso applicare la crema mediamente tre volte al giorno in particolare dopo ogni evacuazione e negli episodi di riacutizzazione della sintomatologia per un corretto utilizzo detergere accuratamente l'area da trattare svitare il tappo dal tubo avvitare la cannula sul tubo togliere il cappuccio e comprimendo delicatamente il tubo fare in modo che una sufficiente quantità di crema riempia la cannula dopo aver lubrificato la parte esterna della cannula con una modesta quantità di prodotto applicare il prodotto sulla cute perianale e nel tratto terminale del canale comprimendo delicatamente il tubo per favorire la fuoriuscita del prodotto dopo ogni utilizzo lavare accuratamente la cannula e coprirla con il suo cappuccio descrizione e caratteristiche vaso starà marchio registrato procto a un dispositivo medico ad uso proctologico senza parabeni a base di vaselina per un effetto barriera con glicerina ad azione protettiva ed apenni la marchio registrato ad azione antiossidante lenitiva avvertenze non utilizzare il dispositivo con altri farmaci o dispositivi da applicare nella medesima area l'uso della cannula a personale evitare l'uso promiscuo del prodotto per uso reptale non ingerire non utilizzare il prodotto se il tubo la cannula risultano danneggiati conservare in luogo fresco ed asciutto non esporre direttamente alla luce solare da fonti di calore non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sull'astuccio la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato una volta aperto si consiglia di utilizzare il prodotto entro 4 mesi tenere il prodotto fuori dalla portata e dalla vista dei bambini non vi sono dati adeguati provenienti dall'uso dei principi attivi contenuti in vaso star a marchio registrato procto in donne in gravidanza pertanto il prodotto deve essere utilizzato solo in caso di necessità dopo aver valutato con il proprio medico il beneficio atteso per la madre in rapporto al possibile rischio per il feto qualora i disturbi dovessero persistere dopo 10 15 giorni di trattamento si consiglia il medico ipersensibilità individuale accertata verso uno dei componenti in particolare si segnala la presenza di eugenolo allergeni senza parabeni componenti e ingredienti acqua depurata paraffinum liquidum petrolatum cetearil alcol glicerin gliceril stiarate peglale 00 stiarate malva silvestris extract e liantus annus sed oil di potassium glicirizinate fenoxietanol bisabolol imidazolidini lurea sodium ialuronate edutta bht polygonum cuspidatum extract resveratrol 98 per cento eugenia cariophilus flower oil eugenol fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato